La provincia italiana da secoli custodisce tradizioni artigiane e prodotti tipici di inestimabile valore, spesso realizzati da piccolissime ma preziose aziende locali e per permettere agli imprenditori lucani di affrontare e vincere la sfida della globalizzazione, nel 2014 è nato Mapping Basilicata, un progetto della regione di sviluppo Basilicata sostenuto dai fondi europei. Un portale web che ha organizzato percorsi di valorizzazione e comunicazione dei prodotti e che ha unito questo microcosmo di imprese in tre brand per l'agroalimentare, la corsetteria e l'arredo. Mapping Basilicata è un progetto promosso dalla regione Basilicata con l'obiettivo di supportare l'internazionalizzazione delle imprese appartenenti ai distretti produttivi regionali nel settore dell'agroalimentare, del mobile, della corsetteria. È un progetto finanziato con fondi del Ministero dello Sviluppo Economico e con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito della programmazione 2007-2013. Obiettivo di Mapping Basilicata, un programma di capacity building, quello proprio di aumentare la visibilità della Basilicata e delle sue aziende. Si è scelto per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese, quindi aumentare la visibilità delle imprese di aggregare i tre settori produttivi sotto tre marchi settoriali e sono nati quindi dalle attività del progetto i tre marchi di Mapping. Casa Matera per il settore del mobile, Basilicata Fine Foods per il settore dell'agroalimentare, BU Beware per il settore della corsetteria. Mapping Basilicata ci ha dato una mano grandissima nel realizzare prodotti di alto design con l'aiuto di diversi designer internazionali. Attraverso questo progetto siamo riusciti a realizzare dei prodotti innovativi, con materiali innovativi e legati anche al territorio. Il progetto Mapping Basilicata è nato nel 2014 e la rete Casa Matera tuttora è operativa a tutti gli effetti. Il bello dello stare in rete, della convivenza, sta proprio nel fatto che per ogni singolo pezzo che si produce tutti portano all'interno di quello che si fa la propria esperienza che è diversa l'una dall'altra, per cui le difficoltà vengono risolte facilmente perché ogni singolo componente ci mette del suo e alla fine il risultato finale è la componente della partecipazione di tutte le aziende della rete.